Buongiorno, oggi celebriamo la memoria liturgica di San Luca Evangelista, il caro medico compagno di Paolo che è accanto all'Apostolo delle Genti in tanti suoi viaggi evangelizzatori e nella fondazione di comunità cristiane nell'Asia minore. Luca, colui che ci lascia il patrimonio prezioso di un Vangelo, il terzo, e degli Atti degli Apostoli, due libri presentati come un dittico, come due facce di un'unica opera in cui racconta la missione di Gesù, figlio di Dio fatto uomo, e la missione della Chiesa che ne continua sulla terra la presenza portando la buona notizia dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Ed è proprio di questa missione che il Vangelo che ci viene consegnato, il capitolo 10 di Luca, appunto i primi nove versetti, mette l'accento sulla universalità del mandato ricevuto dalla Chiesa, poiché il Signore manda 72 altri discepoli, un numero simbolico a indicare la pienezza delle nazioni raggiunte dal nuncio della parola, appunto. 72 inviati a due a due, sempre insieme, perché la missione non è mai individualista, è singolare, ma è sempre comunitaria, e con le condizioni che presenta Gesù si scopre che è una missione urgente, fondata sulla libertà e sulla povertà di coloro che sono mandati e sulla fiducia nella messe abbondante che attende l'arrivo degli operai. La messe è il mondo, è questa umanità di generazione in generazione, guardata con tanto amore da Dio, che ha bisogno di mani, di piedi, di bocche che annuncino e testimonino veramente che questo Dio ha a che fare con le vicende di ogni giorno e si mescola con le nostre relazioni e i nostri impegni quotidiani, di modo che possiamo conoscerlo, amarlo, raggiungerlo anche con il nostro bisogno di sentirci amati. Ecco, tutto questo attraversa il Vangelo intero di Luca, che parla insistentemente della misericordia di Dio, che presenta Gesù come il figlio vicino in particolare ai poveri, alle donne e ai bambini emarginati nella società dell'epoca e anche oggi bisognosi di un'attenzione particolare per scoprirsi amati da Dio. Luca racconta di un Gesù appunto misericordioso vicino ai poveri e fondato su una relazione speciale e privilegiata con il Padre che custodisce nella cura della preghiera. Gesù è immerso in un clima di preghiera e si riserva tempi di preghiera per poter dialogare con quel Padre che lo ama immensamente. Tutto questo, insomma, per noi, testimoniato da quel Luca che ha sentito direttamente dagli Apostoli racconto di quanto ha vissuto Gesù, ecco, tutto questo per noi diventa motivo di gratitudine e anche di rinnovato impegno. Anche noi siamo mandati come missionari a testimoniare e annunciare a tutti l'amore di Dio, smisurato, incontenibile, un unico amore che può dare speranza, anche dentro le drammatiche situazioni e vicende che stiamo vivendo in questi nostri giorni di fatica, di tristezza per le sorti del mondo. La speranza rimane forte perché, come Luca, anche noi crediamo che la forza della Pasqua è capace di vincere il peccato e la morte senza mai cedere al pessimismo anche quando la fatica è più grande. Interceda per noi il caro medico e pittore tanto innamorato della Madonna perché possiamo essere, come lui, fedeli artisti, testimoni dell'amore di Dio. Buona giornata.